A sud, un posto di blocco che ho struito... Parliamo della Grand Central. Il battaglione si è piazzato lì e controlla l'area circostante. Ci sono posti di blocco con guardie e torrette automatiche in punti strategici. È una cazzo di fortezza. Per loro è un avamposto importante, quindi è ben fornito di truppe e munizioni che arrivano dalle gallerie della metropolitana. Una piccola squadra dovrebbe passare dalla metropolitana sotto al perimetro, colpendo l'avamposto dall'interno ed eliminando le torrette prima che si rendano conto di qualcosa. I con squadra, intendo te. Sistemate le torrette, colpiremo con tutte le nostre forze. Possiamo infliggere un duro colpo all'ultimo battaglione, se fai le cose per bene. Attenzione! Stai abbandonando l'aria sicura! Attenzione! Rilevata presenza ostile! Risoliamo la zona ostile! Attenzione a testa! Qui c'è un uomo a terra! Riferico, fuoco di copertura! Conquistate la loro postazione! Siamo evitati! Andiamo! Sono bloccato! È un uomo a terra! Non posso crederci! Non posso crederci! Agente, ho dato istruzioni a uno dei miei uomini di darti una mano a passare nei tunnel, oltre il perimetro. Una volta dentro, elimina le torrette e spiana la via all'assalto. L'esito dell'intera battaglia dipende da te. La stanza di controllo è a circa mezzo chilometro a nord, sulla linea laterale orientale. Quando sistemi le torrette, facciamo partire l'assalto. Buona caccia! Non vorrei dirtelo, ma qui non è molto meglio. Ma davvero così male? Non te l'ho detto io, ma... Attenzione! Accettazione, trasmissione radio. Titan, qui vai per uno, mi ricevi? Forte e chiaro. Ci sono degli spari nella stazione sopra di noi. Vai per due e non risponde! Tieni duro, vai per uno. Mandiamo altre squadre. Allora, asciutto! Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Sì. Sì, sì. 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 Sì, sì. 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 Granate lanciate! Granate multiple sulla testa! 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 Accesso al sistema di controllo della sicurezza! Accesso ottenuto! Disattivazione torrette penetrali! Ce l'hai fatta! Il perimetro è saltato! Ora unisciti alla forza di assalto e concludi la missione! Attenzione! Intercettazione trasmissione radio! Alla Grand Central! Siamo sotto fuoco intenso! Le torrette non funzionano e siamo in inferiorità! Richiedo supporto immediato! Tieni duro soldato! Arrivano i rinforzi! Sì! 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 Sì, non è rilassato! Sì! 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 non è caricato Cazziamo di via! Fino all'ultimo uomo, stronzi! Oh, merda! Ho la devastata O in sicurezza! Oh, merda! Siamo di fronte a protezionisti! Forza con le armi pesanti! Forza con le armi pesanti! Forza con le armi pesanti! Siamo di fronte a protezioni! Ammazziamoli! Forza con le armi pesanti! Sto ricaricando! Mi serve aiuto! Pugliamo questa carta di zona! Cazzo hanno preso Allen! Non dovevano essere mercenari! Non dovevano essere mercenari! Sono stato qui! No! Sì! Proviniamoci! No! 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 Prima o poi dovranno uscire! Forza, finiamolo! Avanziamo verso di loro! Ho capito! Siamo noi! Vado così, continuiamo a fare! Siamo! Pensiamo che non dovrebbero essere nazionali! Mantegnamo l'apertura! Non pulite l'anzeto! Cazzo! 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 Fuoco! Ho pochi colpi, devo ricaricare! Manteniamo la pressione! Maledizione! Maledizione! la volontà versagli aprire il fuoco ci sono stili Sperate a tutti! 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 Sperate a tutti!